Contro cosa lotta una persona che ha l'Alzheimer? Il vento scompiglia le pagine e le porta via. Prima quella in alto, poi quella in basso. Prima le cose più complicate, poi le cose più semplici. Prima le cose più nuove, poi mano a mano quelle più vecchie. Ed è così che si dimentica in un certo senso, come tornando indietro nel tempo. Nessun gesto di cura è sprecato. Nessuna gentilezza è vana per quanto sia fragile l'essere a cui lo dedichiamo.